Nordica Doberman SLR RB FDT è uno sci performante per chi ama le curve da slalom speciale e gli archi più corti con un raggio di 13 metri e 69 mm al centro nella lunghezza di 165 cm. Costruzione con nucleo in legno, due strati di titan all'inserti in carbonio in punta in coda Sidewall in fenolo e la FDT Recoil Power Plate. I sci hanno un profilo full camber. Nordica SLR 170 a raggio 14. Uno sci che mi ha impressionato molto per la progressività in tutto l'arco di curva. Si comporta assolutamente bene nel raggio corto e nel raggio medio. Quando si va ad aumentare la velocità e quindi anche il raggio di curva tende a essere un po' meno preciso. Sicuramente non serve e uno sci per L6, L7 non è super impegnativo quindi ti permette di sciare con un bel ritmo tutta la giornata. Sci che ho provato con una neve marcia primaverile e devo dire che mi è piaciuto veramente tanto. mi sono trovato bene con questo sci, con questa neve qua veramente facile e divertente da usare. Nell'ampio e nel medio comunque è stabile, tiene leggermente nell'ampio un pochettino lo sci traballa ad alte velocità, nel corto facile e intuitivo. Lo consiglio a persone che gli piace sciare, gli piace sciare tutto il giorno. Mi sarebbe piaciuto provarlo con una neve dura per vedere come reagiva con una neve ghiacciata. Per il resto è comunque ottimo sci. L'ho provato a fine giornata, sono neve molto bagnata, primaverile e rovinata. È uno sci che mi ha su questo terreno impressionato favorevolmente perché riesce a sciare sempre centrale, sempre stabile, non affonda, non scappa via, si riescono a fare delle discrete pieghe e quindi è uno sci che io posso consigliare a un amante delle curve medio strette perché anche l'arco medio si riesce a fare con semplicità, che vuole divertirsi tutto il giorno in pista senza azzardare troppo.